Gusto Carasco è la terza edizione, anche se Gusto Carasco come associazione è nata un po' di anni fa è nata, possiamo dire, quasi per scherzo, per valorizzare i prodotti, l'eccellenza del nostro territorio ha avuto un crescendo enorme, adesso siamo a terza edizione invece di un vero e proprio evento siamo partiti qualche anno fa e adesso abbiamo migliaia di visitatori e andiamo a presentare praticamente l'eccellenza del territorio in più quest'anno c'è una unità importante perché noi, un Gusto Carasco non solo l'eccellenza di territorio, ma andiamo addirittura fino in Sicilia per questo disemellaggio enogastronomico quindi Carasco, che noi il nostro motto è storia, arte e cultura, dobbiamo aggiungere sicuramente anche enogastronomia Gusto Carasco, appunto la terza edizione che si sta fuggendo adesso, 14-15 ottobre serve proprio per valorizzare, promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche e difenderle cercare di portarle a conoscenza di più persone possibili ma soprattutto di valorizzare anche il produttore perché i produttori che quotidianamente si adoperano per la loro attività con passione ma sicuramente si adoperano anche per il territorio, il nostro magnifico territorio che ha bisogno appunto di essere difeso e l'amministrazione comunale di Carasco, con Gusto Carasco, vuole essere proprio un punto per riuscire a difendere queste realtà quest'anno inoltre abbiamo voluto aprirci fuori dai confini avremo come ospite la regione Sicilia e anche loro una terra magnifica con tante peculiarità e con tante eccellenze